Michelle Unziker fa una rivelazione sull'infanzia. Ero una teppista. Michelle Unziker, conduttrice mediaset di successo, è attualmente alla guida di Striscia La Notizia con Gerry Scotti. La showgirl Italo-Svizzera, però, non è attiva solo in TV ma anche sui social dove oltre a pubblicizzare la sua linea di prodotti di bellezza spesso condivide anche riflessioni personali e confessioni sulla sua vita privata e professionale. Nelle scorse ore, infatti, Michelle Unziker ha voluto fare una rivelazione sulla sua infanzia postando la foto della sua cresima insieme ad un suo amichetto. Ho trovato questa foto stamattina. Ha esordito la conduttrice, aggiungendo. Ero davvero una teppista, ma quanto ci siano diverti. Striscia La Notizia. Michelle Unziker nostalgica sui social, chissà dove sarà Adrian. Il post su Instagram di Michelle Unziker è visibile alla fine del paragrafo. In esso la conduttrice di Striscia La Notizia ha ricordato la sua infanzia con il suo amico Adrian. I due correvano per il paese con i pattini a rotelle, soprattutto nei supermercati perché lì i pavimenti sono più lisci, e non mancavano le cadute tanto che la stessa Unziker ha ammesso che ancora adesso porta le cicatrici sulle ginocchia a causa dei vari colpi ricevuti. Ricordando la sua infanzia, Michelle Unziker ha concluso nostalgica il suo pensiero, ed in molti utenti social le hanno risposto che è possibile che il suo amico, rivedendosi nel post si faccia sentire. Michelle Unziker a Striscia La Notizia. Gag con la truccatrice. Sei come le Kardashian. Questa sera Michelle Unziker e Jerry Scotti saranno alla guida di una nuova puntata di Striscia La Notizia. E molto spesso la conduttrice, che nei giorni scorsi ha fatto una confessione, fornisce sui social anticipazioni su ciò che andrà in onda o scherza con la sua truccatrice. Ed oggi a Laura Barenghi che ironicamente si lamentava di essere costantemente ripresa da lei, Michelle Unziker, dunque, ha concluso, sei come le Kardashian.